E' una bambina di Reggio, la prima nata in Calabria del 2019. E' venuta alla luce quattro minuti dopo la mezzanotte del nuovo anno negli ospedali riuniti e pesa oltre tre chili. A distanza di dieci minuti all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza è toccata ad un maschietto i cui genitori vivono a Castro Libero. All'1.09 altro fiocca azzurro nella sala a parto dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. I genitori sono di Cotronei. Nel capoluogo di Regione a Catanzaro alle 7 del 1 gennaio ha visto la luce un altro maschietto che ha emesso il primo vagito nel reparto di ossetrice e ginecologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio. I piccoli stanno tutti bene, così come le loro mamme.